Ecco qui, rientriamo a casa e fra un po' la Olli correrà giù dalla scala e verrà incontro. Eccola, ci mette un po' stasera, eccola, eccola Olli, guarda, stavi dormendo, stavi dormendo, stavi dormendo. E' piccola, guarda che musino, attormentato, eh? E' piccola, eh? Allora, allora, è bello perché a lei piace mettere il musino quasi rintanato, come dentro a un buco o qualcosa, no? E poi farsi accarezzare, cioè, è proprio il senso di mettere, infilare il musino dove, ecco, vedi, dove si copre col musino, chi non vede. E poi si fa, si fa accarezzare, eh? Piccola. Allora, allora, cosa mi racconti? Fuori è tanto freddo, Olli, fuori è tanto freddo, sai? E' tornato il freddo. Vieni con me, dai, qui, oppa, ecco di qua, ecco di qua, ecco di qua, piccolina. Guarda, vedi come tende a mettere il musino? Cioè, sotto, vedi, coprirselo. La zampina sul musino, eh? La zampina sul musino, eh? Hai finito di grattarti? Cosa c'è in questo orecchio qui? Ecco di qua, così. Eh? Guarda questa codina come va. Eh? Sai, Olli, che per me, Olli, è bello, sai, arrivare a casa e sapere che ci sei tu, che vieni giù tutte le sere, che vieni a farmi festa, che sei contenta che sono tornato. Sai? Eh? Piccola. Eh? Che facciamo? Andiamo su, che io vado a lavorare, eh? Che devo scaricare le schedine delle telecamere, le devo digitalizzare. E poi dopo andiamo a Nanna, andiamo a Nanna, che ora è solo, stasera è presto? No, beh, è presto non tanto, è l'uno. Ma sai che dicono che ci sono? Voi cagnolini dicono che siete degli angeli. E' possibile che voi siete degli angeli? Andiamo, dai. Su. Su che andiamo. Avanti. Su.